Ginevra Lamborghini, rapporto con la sorella Elettra. C'è pregiudizio. Ginevra Lamborghini non lo nega. C'è del pregiudizio perché sono la sorella di Elettra. Stasera andrà in onda la terza puntata di tale e quale show. E tra i concorrenti c'è anche la sorella di Elettra Lamborghini, che ha lasciato a bocca aperta tutti nei panni prima di Annalisa e poi di Angelina Mango. Si segnala che sull'ultimo numero del magazine Novella 2000 ha rilasciato un'interessante intervista in cui ha parlato di questa esperienza. La giornalista del periodico di gossip diretto da Roberto Alessi, ha anche colto la palla al balzo per domandarle se nei suoi confronti ha avvertito un certo pregiudizio solo perché è la sorella di Elettra. E la giovane ha risposto affermativamente. Lo avverto, certo, ma non tra le pareti di questo studio. Quest'ultima ha comunque voluto tagliare corto su questa faccenda. Un de' evitare di alimentare il discorso, non mi infastidisce, è la vita, ho solo tanta voglia di mettermi in gioco. Tale e quale show, la concorrente precisa, sono stati gli autori a cercarmi. Successivamente, la giornalista del settimanale Novella 2000, ha chiesto a Ginevra Lamborghini, come è arrivata a prendere parte a questa nuova edizione del talent show VIP condotto da Carlo Conti, il quale ha da poco scelto le 14 canzoni in gara nella prossima edizione dello Zecchino d'Oro. E quest'ultima, con estrema schiettezza, ha subito fatto presente che in realtà non è stata lei a proporsi, ma sono stati gli autori ad aver bussato alla sua porta. Sono stati gli autori a bussare alla mia porta, io inizialmente non sapevo bene cosa fosse, conoscevo il programma, ma non riuscivo bene a realizzare che cosa mi era stato chiesto. Solo in un secondo momento la sorella di Elettra Lamborghini, si è resa conto dell'impatto che porta la prima serata di Rai 1? Devo ringraziare gli autori di Tale e Quale, e ovviamente Carlo, per avermi invitata. La concorrente del talent show di Carlo Conti, svela. Fin da piccola mi sentivo una star. La giornalista del magazine Novella 2000, ha poi fatto notare a Ginevra Lamborghini, che da poco ha compiuto 31 anni, cogliendo la palla al balzo per chiederle da piccola come immaginava la sua vita oggi. E la concorrente di Tale e Quale Show, sulla quale Cristiano Malgioglio ha fatto una gaffe in diretta scambiandola per la sorella Elettra, ha subito dichiarato che fin da bambina si è sempre sentita una star. Quando ero piccolina imitavo Britney Spears e altre grandi pop star. Ne ero innamorata, dicevo sempre che prima o poi l'avrei fatto anch'io. Quest'ultima ha poi rivelato che solo da grande, ha però deciso di fare il grande passo puntando a diventare una pop star. Mi sono detta che dovevo lavorare su me stessa, così mi sono decisa a studiare. Quando ero già grande però. E nonostante abbia iniziato a studiare canto tardi, è comunque riuscita ad ottenere risultati importanti.